A Lanciano, da un paio di giorni, è iniziata la raccolta della neve. Le immagini che vediamo si riferiscono a Viale Marconi, dove i bobcat puliscono i marciapiedi, asportando la neve, le pale meccaniche la raccolgono e la mettono nei cassoni dei camion. La neve poi viene accumulata nella zona industriale, al parcheggio del cimitero e al parco di Ocleziava. Altre due aree, individuate per il deposito, dicono dal centro operativo comunale, hanno già esaurito la capienza. L'amministrazione comunale di Lanciano, riferisce all'assessore ai lavori pubblici Antonio Di Naccio, ha prorogato per altri tre giorni il contratto ad una dozzina di LSU per la pulizia dei marciapiedi e di passaggio pedonale, particolarmente davanti alle scuole. Si cerca infatti di far tornare alunni e docenti in classe già da lunedì, tempo permettendo, dopo dieci giorni di fermo. Al centro operativo si dicono ottimisti, secondo le previsioni meteo, sul Lanciano non dovrebbero esserci più abbondanti precipitazioni nevose.